Benvenuti nella rubrica Un Hitchcock al mese dove si recensisce come da titolo un film scelto del miglior regista di sempre. Il film di oggi è I prigionieri dell'oceano. Cominciamo. Film di Alfred Hitchcock con Talua Bankhead, Mary Anderson, John Odiak del 1944. In piena seconda guerra mondiale, una nave viene affondata dai tedeschi e su una scialuppa di salvataggio si raggruppano i sopravvissuti. Riusciranno a raggiungere la salvezza? Truffaut definisce il film un'esperienza sull'unità di luogo, di tempo o d'azione. L'esatto contrario di un thriller, è un film di personaggi e l'esperimento di riuscire a girare un film tutto ambientato su una scialuppa funziona ancora oggi, nonostante i 78 anni dalla sua uscita. La suspense è tangibile, la sensazione di sconforto e di rassegnazione a un destino certo e onnipresente e soprattutto è un film che rispecchia pieno la situazione del periodo. Hitchcock afferma che si tratta di un microcosmo della guerra e che il suo intento era quello di mostrare come le democrazie si trovassero in uno stato di completa disorganizzazione, a differenza del temibile nemico tedesco che aveva invece una idea chiara di dove arrivare. Il regista sembra suggerire che la cosa migliore sarebbe unirsi contro il nemico, abbandonando le divergenze. Il film quindi narra una storia di smarrimento in tutti i sensi possibili, in cui le differenze tra i personaggi creano un clima di sfiducia, alimentato dal tedesco che rompe gli equilibri nel gruppo. Lo spettatore non si immedesima con un personaggio in particolare e cerca di immaginare lui stesso nell'identica situazione. Si figura come uno dei tanti personaggi bisognosi di essere salvati e cerca di fare un bilancio tra le varie idee contrastanti dei protagonisti. Soprattutto per quanto riguarda il personaggio del tedesco, lo spettatore viene depistato dalla narrazione, poiché come al solito tenta di essere coscienzioso e di non dare retta ai caratteri più impulsivi del gruppo, pur temendo delle conseguenze, ma una scoperta destabilizzante gli farà cambiare idea. Ma nonostante il colpo di scena, l'interpretazione che dà Turfone l'intervista, ossia sono tutti colpevoli e calzante, nel corso della vicenda tutti i protagonisti perderanno la loro innocenza e nemmeno il lieto fine potrà cancellare lo sporco indelebile nelle coscienze dei protagonisti. E' interessante allora fare un paragone con il potente survival movie, un tranquillo weekend di paura. Troviamo anche qua il tema della natura, incontrollabile nel suo corso e non curante dell'uomo, che schiaccia senza troppo preavviso. Inoltre, in entrambe le pellicole, la natura, nel caso del capolavoro del 72 e la tecnologia dell'uomo, si eppellisce lasciando nell'ombra il passato con i suoi delitti, tenendo all'oscuro la verità perché troppo scomoda. Se nel thriller di John Burman ciò avveniva per una poca fiducia nei confronti della legge, qua avviene perché le due fazioni finiscono per assomigliarsi in alcune scelte dalla dubbia moralità e il bene e il male si confondono e trionfa il lato animalesco e vendicativo dell'uomo sull'etica. Le numerose suggestive inquadrature sul mare sconfinato quindi nascondono i segreti della storia, che sa solo lo spettatore, i personaggi e nessun altro. Sulla scialuppa, tutti i sentimenti d'amore, i ricordi dei bei tempi passati, sembrano svanire nell'attesa di una crudele sorte. L'immaginazione, insieme al ricordo, è l'unico strumento per i protagonisti per evadere quella mente dalla situazione, che non offre spiragli di speranza. E anche lo spettatore fa lo stesso, perdendosi nei racconti che ascolta. Ed è in questi momenti che la crudeltà umana, o una tempesta d'acqua, si abbatte sulla scialuppa. Si ha la necessità di raccontare e comunicare ogni lato di se stesso, anche i meno edificanti, quando vicino alla morte, perché negli ultimi minuti si ha l'impressione di stare andando incontro allo sgretolamento e al disfacimento di ogni cosa. Hitchcock, per quanto il film abbia fatto ingiustamente flop, si ritiene estremamente soddisfatto del suo cameo. Essendo impossibilitato a fare il passante in mezzo al mare, aveva due possibilità, galleggiare come cadavere o comparire su una pagina di giornale. Ha optato per la seconda, poiché spaventato dalla possibilità di affogare. Appare su una pagina dedicata agli effetti incredibili di una dieta. Coraggioso, appassionante, crudo e politico. Un capolavoro epocale da riscoprire.